Abbiamo qui con noi il primo violino dell'orchestra, il signor Asker, che ci ha regalato questo meraviglioso concetto, il piacere di conoscere le sue impressioni. Mi piace l'Italia, mi piace l'Italia, molto buone persone, molto bello, molto bello, grazie mille, grazie a te, ci vediamo dopo il prossimo concerto, c'è un altro concerto oggi, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.